Nel 2020 è iniziata l'elettrificazione della Fiat con il lancio di Panda e 500 Hybrid, poi a novembre è arrivata la nuova 500 elettrica e entrambe sono state dei successi. 400.000 unità delle ibride già vendute e 100.500 elettriche. Adesso si completa la gamma con questi due nuovi modelli, la 500X e la Tipo in versione Hybrid. Vediamo come vanno. Dopo il 500 e Panda adesso la volta della 500X e della Tipo per la motorizzazione ibrida. In questo caso si tratta di una nuova motorizzazione, la stessa adottata da Alfa Romeo Tonale, quindi un 1.5 turbo da 130 cavalli a cui viene abbinato un motore elettrico da 15 kilowatt, circa 20 cavalli, per una potenza di picco, anche se per brevissimi spunti, di 150 cavalli e 250 Nm di coppia. Ma lo scopo di questo abbinamento non è certo quello di ottenere prestazioni, che pure sono brillanti su questa 500X che abbiamo in prova, bensì quello di ottenere dei consumi molto ridotti. In effetti nel ciclo VLTP queste vetture riescono a camminare per oltre il 50% del tempo senza avviare il motore a scoppio. La batteria da 0,8 kilowattora permette appunto di avere uno spunto supplementare quando si affonda il piede sull'acceleratore, ma soprattutto di recuperare energia grazie al motore posizionato all'interno del cambio DCT a sette rapporti. Nell'uso quotidiano il motore elettrico è in grado di muovere la macchina alle basse velocità e quindi comodo nelle manovre di parcheggio, per esempio. Oltre naturalmente a trarre grande beneficio dal traffico stop and go tipico della guida in città. Nel complesso i consumi si attestano appena sopra i 5 litri di benzina ogni 100 chilometri, un buon risultato quasi a livello di un diesel. Pur con lo stesso hardware del motore Alfa Romeo, la taratura di questo motore è più specifica per l'uso cittadino, meno dinamico se vogliamo, anche se il peso gioca a favore della 500X con un delta importante che la rende abbastanza scattante. Molto ben tarato il sistema di recupero dell'energia che permette di avere un freno motore come ce lo si aspetterebbe su una vettura normale a sola combustione interna e che nel momento in cui si va a frenare rigenera ancora di più. Oltre una certa soglia chiaramente l'impianto frenante brake by wire interviene ed è proprio in quel passaggio tra la rigenerazione e la frenata vera e propria che non si ha percezione di salti di intensità. Per portarsi a casa la 500X Hybrid servono 29.400 euro, tra i due e i 3.000 euro in più rispetto alle normali versioni a benzina a seconda del livello di potenza e di allestimento. Mentre invece per la Tipo Hybrid bastano 26.400 euro.